Buona salute a tutti e benvenuti allo speciale medicina e allora noi parliamo sempre di prevenzione e speriamo che chi ci ascolta dall'altra parte della telecamera di fronte al piccolo schermo possa in qualche modo apprendere quali sono quei passi, quei primi momenti in cui bisogna capire che si sta per instaurare qualcosa che di normale non è nel nostro corpo, che riguarda la nostra salute e del resto anche noi che divulghiamo la scienza medica in un modo semplicistico che possa essere compreso dobbiamo essere i primi a dare l'esempio di come si debba fare la corretta prevenzione proprio per evitare di stararsi di patologie che a volte possono essere abbastanza gravi. La scorsa puntata abbiamo parlato anche oltre che di prevenzione nei confronti della formazione delle placche ateromasiche e quindi quei momenti in cui qualcosa di abbastanza duro può stararsi a livello della carotide, uno dei vasi del collo e da lì staccarsi una parte di questa placca e arrivare infine al cervello e causare l'ictus ne abbiamo parlato ampiamente durante le nostre trasmissioni abbiamo parlato come bisogna fare prevenzione ma soprattutto vi abbiamo indicato lo specialista adeguato a cui ricorrere nel momento in cui insomma si ha qualche piccolo episodio che possa essere ricondotto a quelli che noi chiamiamo in medicina TIA attacchi schemici transitori e ci riferiamo al chirurgo vascolare che provvederà a delle indagini strumentali e da lì potrà insomma verificare se si tratta di una placca quello che può essere la causa di questi accidenti vascolari oppure no allora abbiamo parlato di come la nostra flora microbica a livello intestinale possa essere rappresentata da batteri ma anche da funghi e quindi abbiamo parlato di microbioma nel caso in cui ci fossero i funghi di microbiota però parliamo di microbioma il microbioma è quella flora che ci consente e ci tutela di insomma nei confronti di aggressioni da parte di altri microrganismi quindi a quel punto quando noi per esempio assumiamo gli antiacidi a tempo prolungato però mi riferisco alla giovane età che cosa facciamo? non facciamo altro che inibire questa flora che in parte ci protegge perché se a livello gastrico e non intestinale in questo caso vi è l'acido sicuramente l'acido serve a qualcosa e serve per difenderci da determinati microrganismi annientando l'acido noi praticamente possiamo dare l'avvio alla moltiplicazione di batteri che in quel tratto possono solo causare danno a livello intestinale la stessa cosa spesso noi introducendo degli integratori sbagliati in un momento sbagliato della nostra vita possiamo inibire quella flora che ci protegge e dare adito alla moltiplicazione di una flora che invece non ci protegge da lì le cosiddette ormai conosciute candidosi intestinali e allora dobbiamo fare più attenzione a ciò che prendiamo perché anche se gli integratori fanno bene e benvengano dobbiamo sempre parlare col nostro medico di famiglia o col gastroenterologo per capire la scelta che dobbiamo fare degli stessi integratori perché non sempre produciamo un beneficio da ciò che prendiamo possiamo anche causare danno quindi ritornando all'antiacido sarebbe bene ovviamente mi riferisco a quelle terapie non dico fai da te ma quelle terapie che temporaneamente devono risolvere il problema del reflusso che a me dopo i 40 anni purtroppo ci sta perché lo stomaco invecchia insieme a noi dobbiamo insomma in qualche modo attenzionare anche questa continuità nella terapia per evitare insomma che possano prendere sopravvento dei microbi che poi tanto bene con la nostra flora non ci stanno vi presento subito i nostri ospiti studio che oggi ho identificato come il vecchio e il nuovo ma non riferito soltanto all'età perché l'età c'è ma soprattutto per l'esperienza passata è presente attuale con noi il dottore Gerlando Verruso è medico di area di emergenza che rappresenta il nuovo benvenuto è il dottore Pasquale Lattuca chirurgo che rappresenta il vecchio nell'area di emergenza benvenuto lei il dottore Gerlando Verruso ecco cosa ci può dire di quel che vive quotidianamente in trincea nel suo posto di lavoro? ma intanto che è esatto quello che appena finito di dire cioè che è cambiato il pronto soccorso perché è cambiata la domanda di salute da parte dei cittadini e quello che viene chiesto oggi al pronto soccorso è totalmente diverso da quello che veniva chiesto al pronto soccorso fino a 10-15 anni fa e questo lo vedremo adesso con il collega esattamente oggi ci viene chiesto viene chiesto a tutti il pronto soccorso di fare diagnosi di studiare il paziente in maniera dettagliata di capire che cosa ha e successivamente fatto espletato questo passaggio di avviarlo a quelle che sono le cure successive sotto forma di ricovero sotto forma di avvio a specialisti interni o esterni all'ospedale quindi o il regime di ricovero o non il regime di ricovero ma un'altra cosa importantissima che è cambiata è la gestione del paziente perché adesso quasi tutti i pronto soccorso hanno un reparto che si chiama medicina e chirurgia di accettazione d'urgenza quella che comunemente viene chiamata la stanteria dove ci sono dei pazienti ricoverati come se fossero ricoverati in un reparto a questi pazienti bisogna fornire assistenza ospedalizzazione terapie visite mediche indagini diagnostiche cioè tutto quello che viene fatto in un reparto e siccome vista la carenza di personale tutti i pronto soccorso ormai si friggono con lo stesso personale che c'è quindi gli stessi medici fanno saletta di visita fanno visite nel reparto di degenza fanno le dimissioni quindi hanno un carico di lavoro che è notevolmente aumentato mentre si riducono le persone che devono dividersi questo lavoro ecco che nasce la grande sofferenza dei pronto soccorso allora nel contesto nosocomiale adesso diciamo che si parla di multidisciplinarietà nel senso che ci si confronta con vari settori sanitari nel campo dell'emergenza e credo che questo avvenga nei pronto soccorso nel senso che noi abbiamo la terapia intensiva neonatale abbiamo il pronto soccorso pediatrico abbiamo la emodinamica abbiamo il rianimatore quindi la terapia intensiva ecco la rianimazione ecco questo fa parte del quadro operativo nel contesto di un'area di emergenza che si deve avvalere della professionalità e della consulenza di altri colleghi ecco per capire per decidere di cosa si tratta nel quesito diagnostico assolutamente il medico del pronto soccorso che spesso viene definito nelle riviste mediche o comunque nei siti che si occupano di medicina o di pronto soccorso nello specifico come il medico del pronto soccorso il migliore diagnosta dell'ospedale perché è il medico che vede tutte le patologie perché tutte passano dal pronto soccorso e che poi deve avere la capacità di scegliere meglio con quali figure professionali specialistiche interfacciarsi per validare un'eventuale ipotesi diagnostica che viene proposta al momento della visita del paziente per cui bisogna sicuramente interfacciarsi in prima istanza con i colleghi che si occupano delle procedure diagnostiche i radiologi che sono quelli che vengono maggiormente bersagliati tra virgolette dalle richieste di indagini da parte dei medici del pronto soccorso ma anche i chirurghi i colleghi della medicina interna i colleghi della rianimazione che vengono chiamati nei momenti di gravissima difficoltà quando ci sono dei pazienti in pericolo imminente di vita e ovviamente i cardiologi con l'emodinamica ecco è vero lei ha citato per esempio la radiologia spesso dimentichiamo di ricordare che proprio il radiologo è il primo interventista ecco nelle aree di emergenza che insomma coadiuva la diagnosi fa diagnosi assolutamente ecco anche negli ultimi casi che benvengono di buona sanità al nostro San Giovanni di Dio anche il radiologo è stato una figura importantissima per poter accedere poi alle cure delle pazienti che si sono salvate portate in rianimazione ma comunque dico il radiologo è stata la prima figura professionale che ha dato tempestivamente la diagnosi che ha reso possibile poi la prestazione d'opera da parte delle altre figure professionali e insomma sono state salvate delle vite e questo è giusto ricordarlo perché parlare sempre di mala sanità non fa bene a nessuno è anche giusto ricordare quando degli eventi vengano poi risolti in un modo tempestivo e felice ce lo auguriamo sempre del resto ciò non significa che noi trattiamo solo certi casi bene ed altri lasciamo da parte questo va anche sottolineato la prestazione professionale è uguale per tutti e poi ci sono gli esiti positivi che benvengano è giusto dottore Verruso? Sicuramente altrimenti non avremmo motivo di stargli a lavorare il pronto soccorso di Agrigento fa poco più di 60.000 accessi nel corso dell'anno sono un numero notevole c'è poco più in realtà sono tantissimi un po' di più e ovviamente anche se questo non fa notizia ma è giusto che non faccia notizia la stragrande maggioranza di questi accessi hanno un esito positivo nel senso di individuazione di patologia nel senso di ricovero in reparto nel senso di miglioramento clinico e spesso anche di guarigione del paziente ovviamente non è possibile che tutti i casi possano avere una soluzione una soluzione felice ma bisogna sempre andare a vedere come mai perché se ci sono delle particolari difficoltà in quel caso cioè voglio dire se una vicenda di un paziente ha un esito non positivo cioè non è detto che sia colpa del medico anzi per quello che ci dice la giurisprudenza è assolutamente una piccolissima minoranza dei casi in cui la colpa del medico viene accertata è certo questo è vero però dico c'è anche a volte l'esigenza di dover recitare i casi di buona sanità cosa che prima non si faceva poi ne discuteremo con il dottore Lattuca cioè praticamente prima non c'era questa necessità adesso un po' vessati da tanti casi di denuncia per esiti ovviamente in fausti e anche per errori diagnostici insomma praticamente è nata l'esigenza di dover parlare anche di casi che in realtà rappresentano la quotidianità in un ospedale è nata l'esigenza ma non è ancora nata l'abitudine ad occuparsi di questi casi perché il caso che finisce male chiaramente fa più notizia è molto più facile dare addosso mentre dire il bene o comunque spiegare perché determinate cose sono andate in un modo piuttosto che in un altro forse ci vuole un pochettino di indagine in più e quindi è bene dottore Verrusso noi non possiamo toccare dei tasti grandi e dolorosi che hanno riguardato tante persone purtroppo in Italia nel mondo ma soprattutto in Italia noi parliamo della nostra nazione io dico alla fine bisogna avere rispetto del dolore dei familiari perché poi adesso con questo fenomeno delle notizie nel web di Facebook eccetera diciamo che si fa anche tanta spettacolarizzazione a discapito dire io e non a vantaggio dei familiari che soffrono per la morte di un loro caro sì i social ormai sono diventati una sorta di gogna perché basta che venga fuori una notizia è successa la tal cosa all'ospedale di Agrigento e sotto c'è una sfilza di commenti che vanno da semplici vergognate che dovrebbero arrestarvi tutti avete preso una laurea ve l'hanno pagata delle cose che non sono né in cielo né in terra ma comunque le leggiamo queste cose ci facciamo il sangue amaro come è normale ovviamente per chi lavora col cuore la passione e la competenza è un grande dispiacere la passione per il nostro lavoro ovviamente ci porta a passare avanti e a continuare a fare il nostro lavoro per l'appunto però io vorrei dire anche un'altra cosa tutti coloro i quali si spendono in parolone molto grosse e pesanti dimenticano che nella vita può capitare a tutti di aver bisogno di un soccorso e quindi magari trovarsi di fronte a lei verso il quale c'è stato un dire per esempio non lo so sto parlando così ecco lei la laurea se l'è comprata lei è un incompetente però io poi mi posso un giorno trovare di fronte a lei e dover accedere alle sue di competenze dico alla fine ecco parliamo male di chi poi ci assiste stiamo parlando di noi stessi di tutti noi sia utenza che professionisti assolutamente però è chiaro che da parte nostra non esiste nessuna preclusione non esiste nessun pregiudizio il malato è un malato il pregiudizio ce l'ha magari chi è pesante questo può pregiudicare un pochettino il rapporto tra il medico e il paziente oppure tra il medico e i familiari del paziente se il paziente è in condizioni più o meno gravi questo sicuramente costituisce un ostacolo al lavoro del medico perché se si sente l'ostilità chiaramente i passi devono essere misurati in maniera diversa non è bello lavorare in determinate condizioni però anche questo con l'esperienza la necessità di dover intervenire comunque si passa avanti esatto e allora praticamente i dati statistici dell'ultimo anno sostengono che circa il 95% degli accessi nelle aree di emergenza cioè nel senso questa è la percentuale reale mentre un 4% nelle strutture private accreditate allora quindi si pone un problema vediamo lei che cosa ne pensa intanto per strutture accreditate private non si intende l'ospedale si intendono ovviamente altre strutture sanitarie ecco di un po' dividere di dare responsabilità anche a queste strutture per quel che riguarda l'emergenza perché è una concentrazione troppo grande quella che si riversa a livello dei pronto soccorso italiani cioè se questa è la vera percentuale e lo è cioè voglio dire perché non dare visto che si parla troppo spesso di corse nelle diagnosi di malasanità di troppo lavoro perché di questo 95% che accede nelle aree di emergenza chi sta veramente male ma toglie l'attenzione a chi magari lì in mezzo una piccola fetta ha reale bisogno del soccorso no? ecco ecco sì le lunghe attese che sono in parte dovute alla necessità dei tempi diagnostici faccio l'ho fatto altre volte sono stato ospite in questa trasmissione la curva enzimatica per il dolore toracico sono tre prelievi tempo zero quattro ore a otto ore e poi le altre due ore per avere il risultato dell'ultimo prelievo non si scappa ci vogliono almeno dodici ore per completare una curva enzimatica minimo minimo ma mettiamo anche che ci può essere un problema nell'elaborazione del prelievo andando tutto bene ci vuole quel tempo e ci vuole del tempo quindi quando contestano le ore alcuni perché stanno lì per la curva enzimatica forse non sanno che il protocollo prevede tutte queste ore di attesa assolutamente e se mentre ci sono per esempio 5-6 curve enzimatiche in corso il pronto soccorso deve occuparsi di altri tipi di patologie che potrebbero essere più facilmente gestite dal medico di famiglia da una guardia medica o comunque all'esterno dell'ospedale è chiaro che si intasa i tempi si allungano necessariamente non c'è altro da fare relativamente invece al discorso delle strutture private accreditate o meno io sono assolutamente favorevole a che le strutture private accreditate prendano i ricoveri dal pronto soccorso cioè che mantengano dei posti liberi che possano accogliere dei pazienti valutati diagnosticati stabilizzati soprattutto in pronto soccorso e che una volta che debbano essere ricoverati possano andare nelle strutture private alleggerendo un pochettino il lavoro dei nostri departi ospedalieri che sono sovraccarichi certo penso che si stia ragionando in tal senso perché gli accessi sono veramente tanti quindi ricordiamo 95,4% nelle aree di emergenza non socomiali poi abbiamo un 4% nelle strutture accreditate private e poi un 2% virgola qualcosa nelle aree di guardia medica cioè veramente è davvero tutto questo considerando il taglio dei posti letto che c'è stato negli ultimi 20 anni in Italia una scelta politica che adesso stiamo pagando stiamo pagando perché praticamente scusa se ti interrompo no no ma mi sembra giusto perché noi dobbiamo fare oggi il confronto tra il nuovo io ho iniziato così il nuovo cioè il non dico il vecchio il vecchio perché praticamente questo tentativo di fare sì che tutte le strutture accreditate avessero per essere accreditate il pronto soccorso è stato un tentativo vano perché la clinica non dicevo questo io dicevo che colgano i pazienti non il pronto soccorso che praticamente si facesse sì che una quantità di posti letto nella clinica privata venisse a disposizione della mancanza poi tutto sommato dei posti letto a scavito dell'ospedale benissimo ora però tutto questo comporterebbe degli ulteriori o delle ulteriori complicanze organizzative perché perché già la struttura privata per la sua forma mentis economica fondamentalmente con l'urgenza non vuole avere assolutamente niente a che fare è un classico del quotidiano magari non possono essere a deciderlo perché ultimamente si sta ragionando sul fatto di dare responsabilità agli accessi sì ma il problema è di forza contrattuale e la forza contrattuale quando tu metti di fronte un potere economico notevolissimo che è quello delle cliniche private dove si fa esclusivamente tra virgolette eccellenza nel senso dove va il luminare a operare dove va l'industriale o chi per lui dove praticamente non c'è e non ci può essere non ci deve essere perché l'immagine della clinica privata è quella del tutto perfetto albergo a 5 stelle e trattamento a 20 stelle quindi non ci può essere quello che poi purtroppo trovi nei pronto soccorso o negli espedali in generale dove o hai problemi di personale da sempre o hai problemi di gestione personale problemi di gestione della pulizia dell'alimentazione c'è tutto un complesso di situazioni che nella clinica privata proprio perché privata e quindi gestione privata generalmente non trovi ma non solo questo questo è un momento cioè un modo per attirare le persone ad andare in clinica privata perché nella nostra realtà locale cosa troviamo io vado presso la clinica X perché non mi servono c'è un bellissimo è come se stessi a casa sono in parte anche servitori esattamente quindi l'imperfetto dottore Lattuca l'imperfetto sta nel soccorso cioè il soccorso dovrebbe essere il perfetto invece viene il perfetto dovrebbe essere nella diciamo come dire diffusione del centro di primo soccorso cioè io ho una clinica privata bene se ho una clinica privata mia a collo anche il pronto soccorso perché non capisco perché se per un incidente all'arrotondaggio un anno devo arrivare in ospedale quando ho la clinica privata a 50 metri non posso accedere alla clinica privata è così ma capito il concetto è questo è un concetto diciamo spicciolo ma che non non trova un accolice da quel momento che per chi organizzare un pronto soccorso in una clinica privata costa e rende niente e non rende assolutamente niente perché per organizzare un pronto soccorso tu devi avere almeno 8 medici a turno che non deve succedere ma questa comunque rimane una nostra opinione sulla base sulla realtà oggettiva dei fatti da che fu ad oggi però chi lo sa magari adesso il sistema sanitario nazionale è messo un po' alle strette potrebbe anche fare una convenzione differente la mia esperienza professionale ho lavorato diversi anni a Palermo in una clinica privata che si occupava prevalentemente di neurologia e lavoravamo con il pronto soccorso cioè ricoveravamo i pazienti del civico del cervello e se capitava il giorno che non venivano pazienti avevamo posti letto da occupare chiamavamo per dire ma non ci sono pazienti da ricoverare queste sono realtà diverse ma a quanto pare fattibili perché i precedenti ci sono quindi là ci sta un discorso di organizzazione ovviamente anche il paziente a bassa intensità di cure per esempio sì certo esatto visto che la nostra situazione italiana è quella attuale è quella della riduzione dei posti letto questo potrebbe essere un po' supporto c'è anche un problema di mancanza di programmazione però mancanza di programmazione e allora dottore Berluso adesso un'altra un'altra osservazione insomma vediamo un po' cosa ne viene fuori allora ultimamente si parla tantissimo questo coinvolge un po' tutta la nostra penisola però i fatti accaduti di recente negli ospedali di Napoli allora a Napoli praticamente sono mosse da parte dell'utenza aggressioni severe gravi esatto ma aggressione non solo al personale sanitario anche al personale delle ambulanze ecco queste sono cose abbastanza gravi che impediscono la procedura di un lavoro fatto correttamente nell'attenzione nella dedizione nella competenza professionale e allora a quel punto tra l'altro c'è stato un padre assolto tra virgolette perché è stato ritenuto psicologicamente come un individuo alterato dalla situazione del figlio che era stato ricoverato a pronto soccorso e quasi giustificato per avere rotto il dito all'infermiere che stava lì all'ambulanza quindi a questo punto che cosa dobbiamo immaginare o chiedere la scorta per i medici del pronto soccorso la polizia in un posto dove si fa emergenza perché i fatti accaduti sono veramente gravi e c'è uno che è ancora più grave è successo a Brindisi dove i familiari di una persona che pretendevano che il loro congiunto fosse rivalutato perché era già stato visto da altri medici ma fosse valutato dal primario di chirurgia vascolare hanno fatto irruzione in sala operatoria lo so esatto in sala operatoria mettendo a rischio la vita della persona che era in sala operatoria per fortuna non è successo niente ma come mai sono arrivati fino alla sala operatoria come hanno fatto ad accedere lì ecco perché negli ospedali purtroppo ci sono delle zone che si può accedere molto facilmente anche il nostro pronto soccorso da da circa un mese abbiamo un po' modificato gli accessi e ci stiamo organizzando per chiudere che c'erano duemila accessi diversi dai quali si poteva arrivare tranquillamente evidentemente ci sono anche degli altri ospedali fatti magari con concezioni vecchie di come si costruisce un ospedale fermo lì andiamo al dottore Lattuca perché lei mi rappresenta il nuovo in questo senso il dottore Lattuca altro diciamo tra virgolette storia del pronto soccorso del San Giovanni di De Grigento allora ai suoi tempi mettiamola così che sono insomma risalivamo qualche anno dietro la polizia ci stava il controllo ci stava ai miei tempi diciamo fino al fine 2000 sì fine anni 90 la polizia c'era anni 90 fine anni 90 la polizia c'era poi per problemi di mancanza di personale nella polizia diciamo il gabbiotto del poliziotto non esisteva materialmente più tanto è vero che si è creata secondo la mia modestissima opinione l'esigenza dei controlli e si è creata e secondo me ritorno a dire attratamente l'esigenza di avere una vigilanza questa vigilanza dato che non poteva essere a carico della polizia si è data in mano a delle organizzazioni esterne di protezione cosiddetta civile chiamiamola comunque di guardiania spiccio bene questa protezione di guardiania spiccio essendo fatta da persone che secondo me non hanno dal punto di vista funzionale l'importanza che può avere un poliziotto o un carabiniere per diciamo la divisa che portano però il timore c'è perché comunque hanno l'arma il timore non c'è il timore è un rapporto completamente diverso nel senso che se io vedo uno dell'arma del carabiniere o uno dell'arma della polizia messo lì davanti mi comporto in una certa maniera se vedo il vigilantes ma chi se ne frega non so se è giusto però in realtà forse si è verificato questo quindi nella sua esperienza la mia esperienza è che c'è stata una profondissima differenza per fatti accorsi esclusivamente a me cioè anche a me mi è capitato che fino a quando c'era la polizia o i carabinieri il poliziotto girava sentiva l'odore e si presentava e finivano tutte le cose da quando ci sono i vigilantes se capita qualsiasi qualche cosa come è capitata qualche cosa il bravo parente del malato cosiddetto urgente urgentissimo che non ha niente si può permettere di dire tu togli ti dimentico e lui si toglie dimentico e questo si allora dottore Lattuca a lei è capitata l'aggressione io sono stato aggredito ma non solo io è stato tutto il pronto soccorso devastato da una famiglia di personaggi di Villa Seta non sto qui a dire né come si chiama ma è una poca poca importanza ma certo non è importante però è così e non sono stato l'unico anche l'attuale primario del pronto soccorso è stato aggredito al vecchio ospedale in maniera grave è come io come questi colleghi ma tanti altri colleghi ma aggredito in che senso aggredito picchiati ecco esatto sì c'è stato anche chi è stato pestato a dovere chi è stato appestato che ha avuto prognosi riservata che ha avuto fratture dei setti nasali anche gli infermieri generalmente il problema secondo me a prescindere dall'ansia da parte del familiare a prescindere da tutto quello che vogliamo è un problema di comunicazione aspetta lei l'hanno aggredita perché ritardavano ad un matrimonio quindi volevano velocemente esattamente la cura o la prescindia volevano vista la madre perché dovevano poi tutti andare al matrimonio ecco quindi quindi hanno devastato il pronto soccorso esclusivamente per questo per questo motivo un attimino dottore Verrusso lei è stato aggredito sì purtroppo sì 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 da una persona devo dire è una vicenda assolutamente assurda perché è una persona che è stata visitata è entrata in saletta visitata fatto esami ed avviato in radiologia nel giro di 20 minuti tutto questo cioè non ha avuto neanche un attimo di attesa probabilmente in radiologia ha avuto un attacco d'ansia non lo so mentre attendeva di fare l'ecografia che io avevo richiesto ed è ritornato fuori dalla grazia di Dio come si suol dire esatto ma c'era un colosso per cui e quindi pugni e pugni fortunatamente c'è stato l'intervento di colleghi infermieri che si sono frapposti che mi hanno che mi hanno difeso e quindi il danno è stato è stato limitato ma il danno c'è stato c'è stato dottore Verrusso capita anche nei pronto soccorso di assistere a delle reazioni che non vengono fuori per rabbia nei confronti del personale sanitario ma nei confronti del dolore che possono provare in quel momento per la morte anche di un figlio o di un parente giovane anche lì è un momento di preoccupazione perché ci sono delle reazioni davvero pericolose io ho assistito a pugni e calci alla porta dove lavorava il personale ma con una forza e tra l'altro ha accompagnato questo gesto questi gesti da grida urla disperazione ecco i pronto soccorso in questi casi prevedono anche una figura di supporto insomma nel contenimento di questa gestualità che può essere pure pericolosa è un controsenso ma lo è è pericoloso la figura di contenimento nel momento in cui c'è l'aggressione alla porta le urle e così via diciamo l'unica funzione di contenimento potrebbe farla la forza pubblica in quel caso ma non c'è anche la figura dello psicologo la figura dello psicologo è stata istituzionalizzata in parte negli ultimi due anni reclutando delle colleghe psicologhe che durante le ore mattutine e parte di quelle pomeridiane sostavano in una stanzetta dicendo al pronto soccorso e venivano da noi chiamate in causa in determinate situazioni è anche vero che intervenire in una situazione in cui c'è tensione rabbia è un pochettino più difficile anche per uno psicologo poter intervenire quindi loro hanno bisogno magari di una situazione un po' più tranquilla per poter svolgere il loro lavoro quando c'è il tempo quando c'è invece la rabbia immediata c'è poco da fare in quel caso e adesso rivolgiamo un attimo l'attenzione a quella che è la comunicazione al pronto soccorso spesso si dice i medici sono maleducati ognuno ha il proprio carattere magari ci può essere qualcuno che ha un temperamento caratteriale differente da quello standardizzato dell'emissionario della persona che ti ascolta poi in un momento di frenesia nel dover fare le cose spesso l'attenzione può anche essere ridotta però devo dire che anche l'utenza spesso è maleducata non è solo il sanitario che non si mostra gentile ecco dottore Verruso lei può dire che questo effettivamente si verifica e poi alla fine diamo anche un messaggio a chi accede al pronto soccorso come ci si deve porre per avere anche un'attenzione che non sia diversa da quella degli altri perché noi dobbiamo mantenere una linea di condotta comune con tutti è giusto questo è il principio base però ecco cosa non deve fare colui il quale con lei la quale viene a portare un parente non mi riferisco a chi sta male mi riferisco al parente soprattutto innanzitutto non deve mostrarsi minaccioso o prevenuto nei confronti del sanitario che si sta occupando del familiare e deve lasciare che faccia il suo il suo lavoro ha diritto assolutamente ha diritto ad avere spiegazioni su quello che si sta facendo su quelle che sono le ipotesi che vengono che vengono vagliate però e questo purtroppo è un problema che al pronto soccorso è di difficile soluzione i tempi non consentono di comunicare con i familiari per il tempo necessario e quindi non sempre la comunicazione si svolge in maniera adeguata però si cerca sempre comunque di fornire delle informazioni quantomeno di dire adesso farà questo e quest'altro e poi lo rivedremo il paziente e ne riparleremo a volte questo non basta a volte questo non basta perché c'è l'ansia per il familiare perché non è un solo familiare ad accompagnare il paziente ma sono 4-5 quindi scatta anche l'effetto branco per cui ci si sente più forti e si vuole e si è più portati a pretendere ma questo atteggiamento non si sente pure da tutto ciò che si legge si sente dire cioè i pronto soccorso lavorano male e non sono capaci e quindi si arriva un po' prevenuti a trattare male la prevenzione deriva esattamente da questo cioè deriva dal racconto che viene fatto del pronto soccorso il pronto soccorso è un posto dove si aspetta su questo purtroppo non ci piove abbiamo detto i motivi è difficile cambiarli c'è chi questa attesa riesce a viverla in maniera dignitosa e c'è chi invece non riesce a tollerarla e quindi viene fuori la fuga gli istinti quelli sbagliati esatto e allora dottore Lattuca quindi questa è la fase insomma della comunicazione che spesso può risultare non idonea spesso invece lo è scusami se ti interrompo secondo me c'è anche questa prima fase di comunicazione che è quella poi del triage fondamentalmente le persone ha detto bene dottore Berluso il problema non è il malato perché il malato è uno che soffre soggettivamente oggettivamente come ti pare però è uno che soffre quindi ha tutte le ragioni possibili immaginabili vero è anche che spesso e volentieri il paziente che si rivolge al pronto soccorso lo fa in maniera inidonea ma questo lasciamo perdere è vero anche che quando arrivano dieci persone o cinque persone cinque familiari insieme al paziente che tecnicamente possono arrivare pure in tempi molto brevi ma una pressa dall'altra per cui ti fanno la stessa domanda 50 volte per cui il nervosismo sale diciamo aggravano ulteriormente la diciamo la situazione quello che io penso invece per diciamo mitigare un po' questa cosa è la figura del triaggista non può essere lasciata solo all'infermiere perché perché con tutta la professionalità che vuoi che io posso e che vedo nell'infermiere soprattutto se è un infermiere esperto e non posso dubitare di questo le persone per un fatto oggettivo vogliono parlare con il medico giusto sbagliato non lo so però praticamente questo tipo di scelta secondo me farebbe da filtro reale perché se io quando arrivo al pronto soccorso al triage oltre all'infermiere che mi piglia la pressione che mi piglia la temperatura che mi dice bene o male raccoglie un minimo di anamnesi trovassi il medico esperto vecchio chiamalo come ti pare che però già mi dà un'indicazione che già formalmente dà più come dire più 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 fiducia ecco io come atteggiamento di paziente diciamo sono più sarei più propenso a a starmene lì in attesa di quello che mi devono fare perché se io devo sì ora arrivo registro e lo metto in fila e allora che succede adesso eh questa è una sua opinione sulla base dell'esperienza perché questa è una legge cioè la legge prevede che ci sia la legge prevede che ci sia l'infermiere la legge prevede pure che la figura professionale non è solo può essere non solo l'infermiere ma secondo la mia non solo esperienza ma conoscenza sarebbe più opportuno che altri agi insieme all'infermiere ci sia diciamo questa forma di sbarramento psicologico perché poi non è che tu se hai il medico al triage risolvi il problema assolutamente però dal punto di vista emotivo quando io vado in pronto soccorso e ho necessità di parlare con il medico già praticamente vengo disarmato a Vinizio ecco questo potrebbe funzionare in tal senso perché poi perché quando arrivo quell'ansia viene smorzata dal fatto che c'è già ci parlavo con il medico esatto esatto e poi praticamente nel momento in cui vengo spostato nelle sale d'attesa è inutile che dico ma ancora il medico non mi vede ma il medico già diciamo una prima occhiata è stata data ecco sì anche perché poi un medico esperto diciamo quei piccoli errori o quei piccoli ritardi possono capitare uguali però diciamo capiterebbero in maniera molto più ridotta sì anche perché abbiamo detto ampiamente che in quel 70% non arriviamo al 100% di utenza che accede alle aree di emergenza diciamo solo una piccola percentuale di questo 70% ha realmente bisogno del soccorso e delle gialli e rossi sono una parte sensibilmente minor allora dottore Verruso nella esperienza di oggi no allora lei oggi vi ho rappresentato così il nuovo e il vecchio per capire un po' nel nuovo c'è la medicina difensiva ne abbiamo parlato ampiamente ormai si vive di questo quindi la medicina difensiva colpisce voglio usare questo colpisce il nuovo come medico ma colpisce anche l'utenza perché la cosa è assolutamente reciclata a lungo i tempi ecco perché però questo boomerang dall'utenza dal paziente come medicina difensiva in realtà loro hanno paura quindi vanno al pronto soccorso questo boomerang ricade sul medico al pronto soccorso che per quella medicina difensiva che ostenta il paziente guardandolo minacciandolo sto parlando del paziente che non è in grave condizioni di salute allora praticamente si perde nei meandri di possibili ipotesi diagnostiche pur sapendo ed essendo consapevole che lì la diagnosi è una sola cioè non è così grave da venire al pronto soccorso è vero o non è vero purtroppo è vero la frase che ti viene detta è non è che ho piacere io di venire al pronto soccorso in realtà nessuno ha piacere di venire al pronto soccorso però se tu vienes al pronto soccorso se hai il mal di testa da due ore mi sembra è un po' prematuro ma c'è che viene anche al pronto soccorso dopo tre giorni di febbre magari per qualsiasi motivo e magari alle quattro di notte con la stessa temperatura dei tre giorni precedenti decide di andare al pronto soccorso e senza avere consultato mai il medico di famiglia e senza avere mai consultato il medico di famiglia e senza avere mai consultato il medico di famiglia ecco questi sono i casi che creano calca tra virgolette mi permetto di usare questo termine e che lì la discriminazione poi fra i tanti diviene più difficile no? e poi più complessa assolutamente esatto proprio questo è il problema cioè che tra dieci persone che vengono a sproposito si annida quel particolare paziente che sembra che sia venuto a sproposito invece nasconde il problema diagnostico importante e se si confonde e te lo fai scappare poi è un guaio e poi un guaio e poi un guaio dottore Lattuca il nuovo fa i conti con la medicina difensiva ai tempi suoi ancora di medicina difensiva in senso stretto non se ne parlava forse negli anni 90 uno dei casi di denuncia eclatante fu quello delle trasfusioni epatiti tipo B ancora la C l'epatita C non si conosceva non ha un B esatto ecco esattamente bravo non ha un B classificate così ora siamo arrivati non so a quale lettera dell'alfabeto praticamente ecco lì un caso di risarcimento però medicina difensiva non esisteva molto più eroica e c'era molto più tra virgolette rispetto della figura centrale del medico perché praticamente in che senso dico ai miei tempi qualche anno prima il medico che faceva l'ambulatore il medico di famiglia era quello che avevano con suo veniva consultato veniva come dire invitato ai matrimoni alle nascite faceva parte della famiglia ah beh un confessore un confessore un confessore successivamente io ricordo quando siamo arrivati con i miei colleghi al pronto soccorso 1989 il pronto soccorso era non mi vergogna a dirlo era un quadrivio spina santa qualunque arrivava cosa ti fa male la testa in testologia la pancia panso oggi veramente ai suoi tempi si arrivava al pronto soccorso per la bivitasi per la bivitasi esattamente e c'erano 70 posti in medicina e c'erano praticamente io mi ricordo il mio collega arrivava quanti posti letto ci sono in medicina posti letto in medicina c'erano 32 quanti a barella abbiamo 14 46 46 posti si e non ci sono dottor Verus adesso posti 20 20 tutto questo radicalmente con tantissima buona volontà barella e niente barella e niente adesso no non esistono le barella non puoi ricoverare in barella non ha senso umanamente non ha senso formalmente questo è quello che dicevo non puoi ricoverare in barella nel reparto giustissimo lo puoi tenere giù in brondo soccorso lo puoi tenere a fargli terapie in barella a fare indagini in barella a farlo assistere in barella perché non c'è il posto perché posto letto ma è un senso che lei dà positivamente o negativamente che la barella non è che sia tanto comoda tanto ci sono la barella non è comoda ma la barella non dovrebbe manco esistere almeno per il ricovero io per dignità di malato per dignità di persona se io devo essere ricoverato per una patologia seria devo essere ricoverato devo stare sopra un letto esatto non dimentichiamo il caso a Bari della barella mancante e del paziente per terra disteso fotografie il web tutto quanto a voi però in quel vergogna in quel caso l'importante è che è stato salvato ho buttato a terra ma questo ma questo non lo dicono dicono soltanto che hanno fotografato solo il paziente per terra ma non hanno scritto non hanno fotografato i medici che hanno soccorso il paziente in quelle condizioni ma i medici non avevano colpa non c'erano le barelle perché se non c'è letto non lo rianimo esatto ma che significa tra le altre cose perché il paziente appunto a terra non lo rianimo con il givetto umano no ma veramente ma questo non è perché non mi posso piegare ma questo non è accaduto dottore il problema è che si concentrano sulla figura del paziente che soffre disteso per terra è una situazione spiacevolissima ovviamente però il soccorso non gli è mancato ma non è di quello che si parla poi alla fine passato questa diciamo parliamo di questo pronto soccorso dei 6 anni passiamo di questa prima fase praticamente ci siamo organizzati perché eravamo tutta gente giovane piena di energia energia di entusiasmo e questo pronto soccorso è cambiato all'inizio parlo del 1992 cioè dall'89 da così a così per come me lo ricordavo perché io ricordo che il pronto soccorso era una stanza con un'altra stanza attigua e il gabinetto a tipo corrido dove noi all'inizio 1989 io mi ricordo mettevo i pazienti in attesa nel senso aveva necessità di fare la flebbo che io perché io ero giovane e volentieroso gliela facevo lì e non lo ricoveravo le mettevo accanto al cesso non mi vergogno e poi che cosa è cambiato con voi poi è cambiato praticamente che ci siamo organizzati perché eravamo tutti giovani tutti con voglia di lavorare avevamo diciamo una mente che ci spingeva e avevamo anche le basi come dire emotive per farlo e al che si è sistemato il pronto soccorso in una situazione attigua dove c'era un posto dove tu entravi da un lato e uscivi dall'altra parte porta blindata polizia accanto e le cose e poi avevamo sei posti letto in una camera sempre attiva e da lì rianimazione sopra e da lì praticamente il giro del malato era entrava diagnosticato spedito nei vari si lavorava meglio nel pronto soccorso non è il problema di lavorare meglio si lavorava meglio perché si accedeva al pronto soccorso davvero nei casi urgenti nella maggioranza voglio dire a parte la bibitasi insomma l'intossicazione però adesso abbiamo parlato nel nuovo della medicina difensiva per cui l'utenza è raddoppiata rispetto ai tempi degli anni 80 90 noi siamo arrivati inizialmente con circa 36.000 accessi l'anno quando io me ne sono andato ne facevano circa 72 73.000 esatto diciamo 60.000 le ha detto dottor Verusola insomma 10.000 in più parliamo di accessi non parliamo di prestazioni di prestazioni sono milioni di prestazioni perché chi arriva al pronto soccorso la prima cosa oltre la prestazione della pressione oltre la prestazione del prelievo la radiografia perché gli aspetta l'attacca che gli tocca la visita chirurgica gliela devi dare perché aspetta dottore Lattuca allora lei che mi rappresenta il vecchio andiamo al nuovo cos'è cambiato nella mentalità comune di accedere alle aree di emergenza per essere controllati dalla diciamo così bonariamente dalla testa ai piedi attraverso le radiografie insomma quel controllo generale quel check up che costa tanto e che è facile ottenerlo al pronto soccorso tra il vecchio e il nuovo questo è cambiato nella mentalità comune oppure no è cambiato moltissimo perché ripeto prima la domanda di salute era totalmente diversa la gente stava male quindi in quel momento andava al pronto soccorso ma doveva stare male davvero anche perché non era organizzato come adesso il servizio del 118 quindi non c'era nemmeno la facilità di arrivare in pronto soccorso fino a 20-25 anni fa c'era un'ambulanza ferma in pronto soccorso e usciva per andare a fare era così prima ambulanza pronto soccorso telefonata adesso ci sono momenti in cui ci sono sette ambulanze in fila che ci attendono per scaricare il paziente oppure si bloccano perché hanno scaricato il paziente ma rimane sulla loro barella sono finite tutte le barelle quindi le ambulanze non possono ritornare sul territorio quindi è cambiata completamente numericamente la domanda e l'esigenza qual è quella anche di avere accesso a tutte le analisi possibili l'esigenza in parte è anche quella dobbiamo anche dire che è cambiata anche alla popolazione perché c'è un aumento dell'età media un aumento della cronicità delle patologie che porta poi a delle diapotizzazioni periodiche e allora la cronicità delle patologie è di competenza del pronto soccorso o del territorio cioè c'è una buona cooperazione territorio assolutamente no la cronicità delle patologie non c'è adesso non c'è mai stato non c'è mai stato e non c'è adesso adesso meno che mai parliamo del 2% insomma praticamente la medicina difensiva non va in ospedale la cosa è che sono stati fatti dei piani dalla regione questi piani pomposi che vengono fatti qualche anno fa o 4 o 5 anni fa fu lanciato l'obiettivo per i manager di gestire lo scompenso cardiaco nei pazienti per cui i pazienti dovevano per ogni paziente bisognava compilare una bella scheda la consegnare in modo tale che poi il paziente non tornasse più in pronto soccorso perché lo scompenso è una patologia cronica che va incontro a dei momenti di aggravamento e poi ma ne fosse rimasto uno ad essere gestito sul territorio facevamo le schede si combinavano eccetera eccetera e poi il paziente tornava e continuava a tornare e continuava a tornare e continua a tornare fino ad adesso la broncopatia cronica c'è il progetto per la broncopatia cronica o struttiva sul territorio finanziato dalla regione c'è il progetto progetto diabete finanziato dalla regione cioè tutte patologie croniche che praticamente potrebbero tranquillamente essere seguite sistematicamente sul territorio e senza considerare che io in vita mia e ne ho viste tante posso dire contate sulla punta delle dita di una mano persone che accedono al pronto soccorso in urgenza con la scheda del medico di famiglia ecco questa purtroppo ma è sempre diciamo la cosa di cui e sono obbligati e allora dottore Lattuca siamo al termine di questa chiudo la parete nel compilare le SDO che sono le schede di dimissione dei pazienti tramite le quali poi viene rimborsato il costo del ricovero all'ospedale non si può mettere come motivo di ricovero diabete scompensato oppure scompenso cardiaco perché addirittura la ragione le ha cancellate come patologie ospedaliere e allora dottore Lattuca per concludere perché sarebbe bene parlarne tanto e tanto ancora ma il tempo non ce lo concede e allora io l'ho identificata come il vecchio e non per età vecchio come non per età e allora questa nostra sanità dovrebbe anche provvedere rispetto a tutte le cose che abbiamo detto nostra no siciliana parlo della sanità in generale in Italia a un ricambio generazionale soprattutto nel contesto delle aree di emergenza cioè lei parlava noi eravamo giovani eravamo forti però si arriva ad un certo punto visto che l'età pensionabile è 67 anni al momento poi non si sa se arriviamo a 72 ecco dovremmo farlo velocemente perché la sanità italiana è una sanità tra le migliori del mondo vero perché dà tutto a tutti e a tutti i livelli e su questo non ci piove cioè non c'è una prova contraria è altrettanto vero che però in Italia non si è mai fatta programmazione quando io me ne sono andato in pensione già tre anni prima sapevano non agrigente in generale in Italia che venivano a mancare nel 2019 23.000 figure professionali medici e quindi non ci pensa non è cambiato assolutamente niente è una buona sanità però questo non abbiamo medici gli specializzanti vanno all'estero non abbiamo più nessuno i medici ci sono non ci sono i medici ci sono mancano le specializzazioni perché per accedere a qualunque posto di qualunque genere se non hai la specializzazione non puoi accedere nessun concorso non c'è c'è la scuola specializzazione in medicina d'urgenza da 10 anni 15 anni Sicilia ma non escono persone a sufficienza ecco questo e poi quando escono vanno anche via quando escono vanno anche via e in ogni caso le unità sanitarie locali si come dire approvvigionano con ragazzini con tantissima buona volontà ma che secondo me adesso c'è una nuova legge il part time per gli specializzanti a sopperire le esigenze da carenza di personale medico ovviamente hanno il loro tutor però l'ultimo anno ecco l'ultimo anno ma tu non lo si direi che hai due persone che devono fare lo stesso lavoro eh lo so dottore Lattuca però cioè dimmi dove il guadagno e allora dottore Berluso andiamo andiamo al nostro messaggio finale allora in questo momento si parla di coronavirus quindi temo che visto che ci sta pure l'influenza il clima mite ha posticipato i casi di influenza ci sono accessi a pronto soccorso per simulazione di questa bestia perché è una grande bestia sta facendo più vittime della SARS è sempre il coronavirus ma questa volta è ancora più seria la storia due casi ci sono stati ma assolutamente casi riconoscibilissimi per banalissime sindrome influenzali assolutamente ma voi vi siete attrezzati con le mascherine comunque abbiamo attrezzato come direttiva ministeriale la stanza per risonamento tutto il materiale di cui fare uso nel caso deprecabile speriamo che non succeda mai che si presenti qualcuno che abbia la possibilità e lì ha ragione il dottore Artuca quando dice separando le due motivazioni che la nostra sanità italiana è la migliore perché come sorveglianza e come attenzione in questi casi è unica allora il medico di pronto soccorso che lavora lì ha paura per se stesso? ha paura fisica certe volte fisica non delle malattie trasmissibili no perché è la missione del medico assolutamente allora un messaggio a chi ci ascolta lei che lavora in un'area di emergenza e rappresenta il nuovo ma il messaggio è sempre lo stesso venite in pronto soccorso vi accogliamo vi curiamo con il massimo della professionalità ma venite soltanto se avete delle patologie che hanno bisogno del medico del pronto soccorso per tutte le altre cose c'è il medico di famiglia c'è la guardia medica ci sono gli specialisti non venite per venire a fare i semplici controlli perché create danno agli altri che stanno male e che perdono tempo per voi ok grazie dottore Verruso e io vi lascio ricordando anche una cosa importante che ha detto lei quando si va al pronto soccorso sappiate che è sempre un problema cardiologico per esempio il protocollo prevede i controlli e i controlli praticamente hanno contemplato numero 12 ore minimo di attesa ecco poi non ci lamentiamo che siamo stati magari ad aspettare il problema cardiologico perché ovviamente in una diagnosi insomma voglio dire non grave stiamo parlando di un controllo di un sospetto ecco parliamo di un sospetto diagnostico bene vi saluto e vi lascio alla prossima puntata il nostro video sempre lì e guardatelo bene anche lì si fa tanta prevenzione ciao ciao i'll take good care of you don't think twice cloudy or blue sky come shine or come red i'll be by your side baby over and over again i'll wrap you up in cotton wool baby i'll wrap you up in cotton wool oh oh oh